Ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi Inoltre in descrizione nel primo commento trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022 In questo contenuto vi riporterò tutte le news ufficiali inserite nel sito Konami quindi si tratta di news come già detto super ufficiali per quanto riguarda la stagione 2 del campionato eFootball che ormai sta per arrivare Vi dico già che ci sono tantissime novità ma soprattutto è previsto l'arrivo di pacchetti speciali nuovi pacchetti che fino adesso non abbiamo mai visto nel gioco, una novità assoluta Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi Ragazzi mi raccomando questa parte è importantissima circa il 50% delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale l'iscrizione con la campanella attivata è il massimo supporto che potete darmi quindi se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per farlo Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Service loro mi aiutano a realizzare tutti i contenuti che trovate qui sul canale e per questo vi chiedo il massimo supporto Ok ragazzi eccoci qua sito ufficiale eFootball gestito ovviamente da Konami Konami.com come potete vedere quindi si tratta di news ufficiali anche se ormai abbiamo imparato che molte volte Konami non mantiene le promesse nemmeno quando scrive le informazioni sul sito ufficiale però ovviamente di ufficiale abbiamo questo e io questo vi riporto forse non tutti se ne sono accorti ma andando in stagione non c'è più la stagione 1 disponibile a livello di info ma c'è anche la stagione 2 quindi clicchiamo su stagione 2 e vi faccio vedere un po' di che si tratta ovviamente se già avete letto tutto se già ve ne siete accordi perché hanno modificato questa cosa già da un paio di giorni ma io ho avuto altri video da fare non scrivete già lo so già lo so lo sanno tutti perché questo video è rivolto verso le persone che non conoscono queste informazioni di certo se sapete già tutto o vi interessa perché lo dico io oppure potete anche passare avanti senza criticare il tipo di video faccio questa precisazione perché come già detto queste info ci sono già da 3-4 giorni e quindi ci sarà sicuramente il personaggio di turno che nei commenti mi scrive eh hai fatto il video in ritardo eccetera o avevo altri video da fare ovviamente però sono convinto che la maggior parte di voi non si è accorto di questo passaggio di questo fatto che c'è stagione 2 nel sito ufficiale anche perché molti di voi sicuramente nemmeno guardano il sito ufficiale comunque non perdiamo ulteriore tempo dopo questa premessa e andiamo subito a leggere i Football World sta per entrare nella stagione 2 dopo averci regalato un altro anno carico di emozioni giocatori e nuovi campioni faranno sentire la propria presenza in i Football World la stagione 2 inizierà il 16 giugno e vabbè questa stagione si chiamerà European Leagues Highlights scusate la pronuncia qui c'è anche la scritta in italiano momenti salienti dei campionati europei club, stili di gioco squadra e campioni così si chiama questa stagione momenti salienti dei campionati europei club, stili di gioco, di squadra e campioni nel gioco del calcio l'impiego di tattiche potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per determinare la vittoria o la sconfitta per provare il brivido del trionfo è fondamentale che la squadra interiorizzi e incarni le tue convinzioni tattiche vabbè in squadra dei sogni potrai dar vita alle tue tattiche preferite sotto forma di stile di gioco di squadra assicurandoti i servizi di giocatori e allenatori allineati con il tuo personalissimo stile di gioco squadra la tua squadra lavorerà in gruppo mettendo in campo prestazioni di altissimo livello ogni giocatore o allenatore ha il suo stile di gioco di squadra preferito quindi assicurati di ingaggiare quelli che più si adattano alla tua ideologia vabbè la stagione 2 si concentrerà sul concetto stile di gioco squadra ma c'è sempre stato i giocatori dei club europei che hanno mostrato eccellenti prestazioni nella campagna 21-22 saranno introdotti con livella di competenza stile di gioco potenziati ah ecco quindi ci saranno ecco carte dal design inedito e giocatori sempre base da quello che ho capito però con livelli di competenza stile di gioco potenziati la stagione 2 sarà lanciata con eventi selezionati tra il 2 e il 16 sta parlando del prestagione degli eventi organizzeremo inoltre una speciale campagna bonus accesso per permettere a tutti di ottenere oggetti di gioco di vario tipo come monete di football e contratti mirati si parla dei nuovi pacchetti adesso Dream Team Powers Packs pacchetti potenziamento squadra dei sogni un sostegno immediato di 11 giocatori più vari oggetti di allenamento quindi ragazzi ci saranno dei nuovi pacchetti ovviamente a pagamento che conterranno 11 giocatori all'interno ti presentiamo una serie di pacchetti di potenziamenti unici una novità entusiasmante per la tua squadra dei sogni Premium Ambassador Pack quindi i pacchetti degli ambasciatori due tipi in totali uno speciale pacchetto di 11 giocatori il primo incentrato su Lionel Messi il secondo su Neymar Junior non sappiamo, non dice se in questo pacchetto ci saranno perché io ovviamente l'ho già letto non dice se in questi pacchetti ci saranno negli 11 giocatori anche Messi e Neymar o se c'è la possibilità di avere Messi e Neymar e i pacchetti, diciamo il pacchetto Messi rispecchia le caratteristiche stile di gioco di Messi il pacchetto Neymar i giocatori che trovate all'interno rispecchiano le caratteristiche stile di gioco di Neymar e magari non è sicuro trovare Messi e Neymar questa cosa non è chiara staremo a vedere però in ogni caso ci saranno pacchetti da 11 giocatori incentrati perché non dice che trovatele incentrati su Messi e su Neymar strizzando l'occhio allo stile di gioco di squadra preferito dal suo giocatore di punta eh infatti ogni pacchetto contiene 11 giocatori con competenza stile di gioco potenziale esattamente quello che vi stavo dicendo io ma è garantito anche nei pacchetti Messi e Neymar e poi 10 giocatori diversi o si può trovare anche Messi e Neymar secondo me si può trovare anche Messi e Neymar non è garantito però staremo a vedere abbinali a un allenatore corrispondente a questa competenza per creare una squadra dei sogni mozzafiato poi c'è l'altra tipologia di pacchetti premium club pack 21-22 slash club pack 21-22 i contenuti di premium club pack 21-22 slash club pack 21-22 si basano sui dati di trasferimento della stagione 21-22 un must per tutti i tifosi più sfegatati ti proponiamo dei pacchetti a tema con giocatori di uno specifico club dovrebbero essere sempre 11 giocatori all'interno o forse no non solo una manciata di squadre fra le più forti al mondo sarà dotata ah questa è interessante di carte dal design particolare realizzate appositamente per i fan più accaniti quindi carte speciali con un design particolare porta in campo i giocatori della tua squadra del cuore e sviluppari ancora di più per creare la tua squadra dei sogni definitivi questi pacchetti saranno disponibili a partire dal 16 quindi al lancio ufficiale della stagione 2 aggiornamenti sulla squadra dei sogni vediamo quali sono le novità anche se la maggior parte per la maggior parte già le conosciamo i seguenti elementi saranno aggiunti alla squadra dei sogni obiettivi e questi li conosciamo gli obiettivi sono sfide che puoi completare giocando in un determinato modo e già le abbiamo viste perché già ci sono in gioco allenatori leggendari e questo voi lo sapevate ragazzi come ricompensa per gli obiettivi premium potrai ottenere allenatori leggendari come Cruif a cui affidare le redini della tua squadra dei sogni quindi non esistono più solo le leggende ma esistono anche gli allenatori leggende e questa è una cosa nuova e molto molto bella rispetto ai normali allenatori quelli di tipo leggendari presentano una speciale affinità di allenamento salva schemi di gioco multipli aggiungeremo presso una nuova funzionalità che ti permette di salvare più schemi di gioco fino a 10 schemi di gioco distribuzione consigliata dei punti progresso per offrire un'esperienza semplificata con progresso giocatore introdurremo inoltre la funzionalità consigliati perché molti si sono lamentati a me che me ne frega non voglio potenziare i giocatori voglio un modo per farlo in automatico il modo è arrivato i punti progresso porteranno ora venire distribuiti automaticamente premendo un solo tasto vabbè poi ci parla del lancio di football mobile e questo diciamo che non ci interessa perché non parlo spesso del mobile nel mio canale non per discriminare ma non me ne intendo di mobile quindi evito di parlare magari mi metterò a studiarlo perché qualcuno di voi ha chiesto provalo sul canale adesso vediamo un po' adesso vediamo perché già c'è tanto da fare con le versioni console comunque queste sono tutte le news ufficiali non c'è nient'altro ragazzi ma mi sembrano comunque news corpose a livello di contenuti non si tratta di aggiornamenti del gameplay eccetera ma semplicemente con l'inizio della stagione 2 arriveranno tutti questi contenuti e arriveranno questi pacchetti speciali che secondo me sono interessantissimi non sappiamo quanto costeranno non sappiamo se saranno acquistabili con monete GP solo con monete solo con GP questo ancora non lo sappiamo lo scopriremo tra pochi giorni perché ormai 4 ragazzi ci siamo quasi il 16 si avvicina prima ancora del 16 ovviamente il 6 partirà la fase 2 della stagione 1 una fase intermedia così fatta amatorialmente giusto per farci passare il tempo sempre nel campionato di football quindi le divisioni e durerà fino al 16 e poi il 16 inizierà la stagione 2 dove sarà veramente competitivo il gioco secondo me e lì veramente troveremo la gente forte perché probabilmente questa stagione intermezzo non la giocheranno molte persone quelli forti 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 secondo me si la giocheranno ma non con tanto impegno perché appunto dura solo 10 giorni e in pratica non si vince niente è una stagione messa lì una fase messa lì solo per far passare il tempo dal 6 giugno al 16 finché esce la stagione 2 fatemi sapere nei commenti che ne pensate fatemi sapere se siete soddisfatti di queste novità io personalmente come già detto sono molto molto incuriosito dai pacchetti e sono anche molto incuriosito dagli allenatori leggendari dalle leggende chissà magari daranno un vantaggio enorme lì dice che si migliorano le competenze dell'allenatore per quanto riguarda i bonus che danno ai giocatori secondo me con gli allenatori leggendari alcuni giocatori si apperanno di overall più del normale quindi saranno più forti in game potrebbe essere interessante come cosa vedremo vedremo che succederà io vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto dal vostro ultimo play bella ragazzi un abbraccio un abbraccio un abbraccio